ragazzi mi raccomando iscrizione al canale che è gratis e la campanellina questi giorni sono un po' impegnato ma eh ora con l'avvicinarsi delle feste cercherò di essere un po' più presente lavoro permettendo non esiste nessun incontro tra il presidente cinese e Bin Salman non c'è nessuna agenda concordata data da stabilire chi vi ha detto c'è un incontro c'è un'agenda ci sono già gli argomenti da trattare sono cazzate non è vero nulla sfido chiunque a dire il contrario e a portarmi scrivetelo sotto i commenti a portarmi un documento un giornale un articolo che dicono che c'è una data un incontro un'agenda sono tutte puttanate cosa numero uno cosa numero due sono carico a pallettoni cosa numero due siamo passati dai dire siamo passati da dire che PIF non può comprare l'It perché ha Newcastle a PIF che vuole agli arabi che vogliono il Manchester United e Liverpool vi rendete conto ma non avevano problemi già con il Newcastle loro la squadra in premier ce l'hanno già le parole del ministro saudita dello sport travisate a come gli pare a loro eh parole mi prese di girate parla di privati parla di privati investimenti privati robe da pazzi ci sono questi quattro sgangherati che tifano l'Inter così almeno dicono che farebbero di tutto pur di non vedere gli arabi all'Inter questi sgangherati hanno anche dei canali YouTube poi che parlano dell'Inter farebbero di tutto guardategli le facce appena appena sentono appena leggono un articolo dopo piazza sono diventati tutti bianchi non è vero smettire piazza come se fosse un ragazzino che fai cronista dietro a che che fai cronista su che ne so e attivistare i giocatori un giornalista ha 40 anni di esperienza che tratta la geopolitica che ha a che fare anche per lavoro con degli sceicchi l'hanno trattato come un ragazzino non è vero nulla piazza non è vero cosa stai dicendo noi siamo siamo diteglielo a piazza siamo bene con zang non ci interessa non ci interessano gli arabi andiamo avanti con zang fino a giugno e allora stiamo sempre lì spiegatemi come si fa andare avanti con zang fino a giugno tra l'altro media set sabatini ti dice che entro sei sette settimane l'inter cambierà di proprietà ti dice non so se sono arabi non so se sono americani per l'amor di dio ma i nomi degli americani chi li sta facendo l'importante per qualcuno che parla alle anatre su youtube che parla ai pensionati sulle panchine l'importante dire che non arriveranno qui poi non sanno dirti altro non arrivano se volevano l'inter l'aveva già comprata e tutte le tiri terre che che ti dicano gente è nata o pif poi americani poi rimane zang ora non ti diano più nulla perché non hanno mai saputo nulla non ti possono dire cosa accadrà perché non lo sanno rimane zang fino a giugno ho sentito spiegami come fa a rimanere fino a giugno spiegamelo spiegami fa fino a giugno chi vuole l'inter poi va ad altri dopo non va più da zang aspetti sei sette mesi e vai ad altri perché zang ormai a livello finanziario caputo si è dovuto dichiarare anche nulla tenente di cosa vogliamo ragionare ma questo poi lo vedremo più là parliamo un po del campo nel campo è il flop dei dei giocatori del lito in questo mondiale onana ha litigato e andava via lukaku a malapena cammina lautaro martinez che come la vedo io ha giocato spesso prima del mondiale ha faticato e ne sta risentendo il ragazzo ma non lo faccio non lo dico per difenderlo lo dico perché è vero altaro martinez per come la vedo io è un grandissimo giocatore anche se a 25 anni aveva bisogno di rifiutare purtroppo si trova in una società che non hanno i soldi nemmeno per comprare l'acqua ormai deve giocare 80 partite perché tra il ballerino e tra tra l'operazione lukaku che ad oggi è un fallimento clamoroso come ha detto anche moratti è costretto a fare gli straordinari quindi ha giocato infiltrato ha giocato affaticato è arrivato al mondiale spompato fossi tifosi dell'inter io mi scappellerei davanti all'autaro perché non si è risparmiato per il mondiale come ha fatto qualche di un altro quindi la panchina l'autaro in panchina sbaglia un tre un tre il tre a zero facile subentra titolare un giocatore che a me è sempre piaciuto yunan alvarez ragazzo di un metro e settanta c'entra avanti fortissimo cattivissimo sottoporta parliamo di un frungoletto piccolino metro e settanta e piccino con tutto rispetto ragazzi perché è un metro e settanta e ci mancheremo tanta tecchia tanta cattiveria sottoporta riesce a darti anche tanta profondità giocatore potevi prendere con due lire ma che purtroppo siamo sempre lì ormai dieci quindici milioni per l'inter sono diventati eh degli scali inizio montabili non puoi più spendere dieci quindici milioni se non di lire il flop il flop clamoroso è quello di Lukaku Gosens che non va al mondiale cioè capito speriamo che almeno riescano a dare una cosina in più all'inter ma ripeto perché come la vedo io Lautaro ci è arrivato spompato De Vrij fa panchina ehm Lukaku ragazzi Lukaku non sta bene cioè inutile di cosa vogliamo parlare Lukaku non sta bene siamo a dicembre non sta bene ragazzi oggi ripartono gli allenamenti le vacanze sono finite speriamo che qualche duro al mondiale per assurdo allora a questo punto eh si sia si sia riposato perché poi dopo alla fine eh noi in questa frase transitoria dove Steven Zhang è in America laddove sta preparando la sua vita privata perché lui da Milano si trasferirà in America e chiedetevi anche perché la sorella e la madre abitano a Los Angeles da una vita e non abitano in Cina stessa cosa farà lui lui non tornerà in Cina lui si trasferirà in America quindi lascia l'Inter e andrà in America poi ragazzi ho sentito parlare in questi canali che parlano alle Anatri hanno dato le date chi le ha date le date prima della Supercoppa dopo la Supercoppa noi non abbiamo mai detto questo quindi sono purtroppo a ridirti un'altra volta di non fare minestroni e di non mistificare le parole capisco che ora siete passati da non esiste nessun arabo a tutto può essere ora però siete ritornati a che gli arabi non ci possono più essere mantenetela una linea perché siete ridivoli capisco ormai gli anali siano morti ma ragazzi la dignità dov'è la dignità dove dove sta dove sta la dignità e tanto loro te li puoi lasciare anche perdere ma loro continuano e non c'è nessun pif e non c'è nessun arabo chi c'è allora chi c'è riesce a fare una trasmissione un pochino strutturata come va avanti zang spiegalo non dire non ci saranno gli arabi hai fatto un nome di un americano e non esisteva chi c'è visto e sai non arriva agli arabi devi sapere anche chi arriva chi arriva diccelo fenomeno pif 118 chi arriva diccelo visto non arriveranno gli arabi per l'amor di dio puoi dire quello che vuoi ma chi arriva non dirai mia silver lake è vero perché silver lake è l'unico nome sensato che hanno fatto ma poteva essere usato come private equity come ha fatto come ha fatto il manchester city con cpc cioè golden lake sì sì golden lake sì le alze delle donne silver lake che fattura la metà di oltre compra lite cioè ma voi vi dovreste vergognate delle puttanate dito ora ora non è più silver lake chi è non arrivano gli arabi ok dici chi è e dici come fa zang andare avanti non lo non non siete in grado di dire queste cose qui ma gli utenti non sono stupidi per quello ai dodici spettatori compresi i parenti e i vicini perché gli non sono stupidi gli utenti capito ma non è di silviro per sempre gli odioni non arriva ma chi arriva silver lake dov'è se se gli arabi la voleva l'aveva già comprata ma silver lake se la voleva l'aveva già comprata che silver lake avete letto tre mesi fa dov'è silver lake laddove bertarelli e lasli sono dispersi in mezzo al lago dov'è silver lake dove l'agenda non c'è nessuna agenda tra cina del presidente cinese bin salman sono tutte cazzate non ci non ci sono gli argomenti non c'è nulla sono tutte cavolate sono tutte cavolate per quello riguarda il mondiale io sto aspettando entri un po' nella fase diciamo un po' più qualitativa per incominciare a guardare qualche partita perché come vi dicevo non ho problemi a dirvelo questo a dirvelo questo mondiale non mi entusiasma sarà il periodo sarà la vicinanza delle feste non lo so a me non non piace ora vediamo se appena si alza il livello magari diventa un po' più interessante e cercheremo anche di commentare un po' l'andamento del mondiale a breve a breve faremo una live con i ragazzi che a differenza di questi che ti diano silver lake non c'è nessuno arabo tutto può succedere loro noi ti spieghiamo perché la nostra versione che la te la motiviamo perché livello economico non può andare avanti c'è stato quello poi comunque appena c'è qualcuno e parla di pif loro l'unione cosa sanno fare senza argomentare perché non sono in grado di argomentare questo non c'è nessun arabo ho visto silver lake come ha comprato l'interno infatti e silver lake dove è finita? Lanzi, Bertarelli, dove sono questi video? Renataiv, dove sono? Ciao interno grazie a tutti grazie a tutti